con le telecamere di mondo futsal tv quest'oggi siamo andati al centro sportivo per albito di sezze dove rocca secca dei volsci ospita la broker sport i lepini sono in terza posizione e seguono sempre il sogno di agguantare la seconda posizione ma vediamo subito comandata subito con le rocca secca manovrare e il lancio millimetrico da parte di parisella che mette in mezzo balestrieri sblocca il risultato rocca secca 1 broker sport 0 la broker sport ci prova subito a voler reagire e la decisione appunto di puntare dal tiro da fuori spetta a marini ma trova il sempre presente appunto fiore l'estremo difensore della squadra lepina ancora marini dalla lunga distanza ben servito da corazzina fiore alza oltre la traversa ancora la broker a rendersi pericolosa ma la conclusione da fuori non trova gloria per i colori nero azzurri pontini parisella dalla lunga distanza ci prova ma non trova gloria anche perché c'è l'opposizione del portiere polinari riconquistato il pallone riparte marini subito per la broker sport in avanti ma fiore esce proteso in tuffo e sventa all'insidia ancora la broker sport con pigini marco pigini ci prova dalla lunga distanza nulla per lui ancora parisella rimette al centro in interviene appunto casconi e c'è il raddoppio per quanto riguarda la formazione lepina questa volta è invece marco spagnoletto a ad andare in gol dopo un'azione corale e per lui è un gioco da ragazzi depositare la palla in rete il capovolgimento di fronte la replica ancora con marini e ancora fiore a sventare l'insidia ci prova ancora la rocca secca per incrementare il tacco da parte di giovanelli non trova e trova preparato invece il portiere polinari ma passiamo con le immagini al secondo tempo dopo che la prima fazione si è chiusa con il vantaggio di 3 a 0 della formazione di casa ancora parisella fa tutto da solo serve al centro per defilato balestrieri che invece spreca in maniera molto ingenua ancora marini fa tutto da solo non si avvale dei suoi compagni rimette al centro ma non trova corazzina preparato ancora parisella fa tutto da solo smarca due giocatori per la corrente casconi e ancora il passaggio al centro dell'aura per parisella è davvero un gioco da ragazzi ancora il pallone riconquistato sempre la rocca secca riparte balestrieri solo si invola a rete trova la deviazione di polinari in angolo ancora il rocca secca conquista il pallone la broker subito velocemente capovolgimento prima con corazzina dopo con quaresima ma trova sempre fiore che è sempre pronto a sventare l'insidia ancora un fallo laterale ci prova dalla lunga distanza questa volta la broker la palla che arriva al centro gira corazzina di pronta di pronta intervento nulla da fare ancora il capovolgimento di fronte questa volta marino con l'ausilio del compagno di squadra bernabèi a depositare il pallone a rete ancora bernabèi si invola da solo indisturbato non c'è nessuno davanti a lui il servizio per la corrente marino dalla parte opposta e palla che si infila a fondo al sacco 6 a 0 ancora rocca secca de volsci ancora marino subito al centro per giovannelli che esulta ma non più di tanto anche perché è una vittoria facile per i colori le pini che possono tranquillamente festeggiare anche quando c'è la possibilità per il la broker sport di sfruttare un tiro libero ma manocchio manda abbondantemente oltre lo specchio della rete difesa appunto da fiore piero si chiude quindi con la vittoria della rocca secca de volsci per 7 a 0 contro la broker sport una broker sport che fuori casa di continua a deludere mentre va molto meglio ancora per il rocca secca de volsci